All'ultimo assalto il Gela vince la sfida contro il Mussomeli, quando tutto lascia presagire ad un pareggio senza reti, nonostante i continui assalti della formazione di casa nell'area di rigore avversaria, il gran gol di Salvatore Mincica al 92esimo ha fatto esplodere di gioia il pubblico del Vincenzo Presti che dal muso lungo per il probabile pareggio e la perdita della vetta della classifica è passato all'euforia totale grazie al delizioso gesto tecnico del numero 10 Biancazzurro che si è fatto perdonare il rigore fallito. Nel primo tempo è che ha consentito al Gela di rimanere lassù assieme al Dattilo Noir che ha battuto la San Cataldese. La cronaca della partita è tutto un monologo del Gela, dopo tre minuti dal fischio iniziale Sherra non aggancia di un niente il cross di Esposito, al 24esimo il capitano Bonaffini si libera bene di un avversario con un tunnel ma trova Nassi in ritardo, al 27esimo calcio di rigore ed espulsione per Cosentino Reo di avere trattenuto da ultimo uomo l'attaccante Nassi lanciato in porta. Dagli 11 metri Mincica angola bene ma Ilardi è un felino e dice no anche alla ribattuta dello stesso attaccante Biancazzurro. Nonostante l'uomo in più il Gela fatica a trovare spazi, il Mussomeli non lascia passare nulla dalle proprie parti e regge agli assalti della squadra di Totò Brucculeri. Nella ripresa la musica non cambia, padroni di casa che passano alla difesa a tre, fuori Sherra e dentro Bella, Gela sbilanciato in avanti e che tenta in ogni modo di perforare la difesa avversaria. L'unico brivido per Pandolfo arriva al 55esimo quando Failla di testa per poco non indovina lo specchio della porta. Poi è sempre il Gela ad amministrare la partita. Gli ultimi assalti sono sempre più disordinati ed imprecisi, tutti tranne uno, ovvero il gran gol di destro di Mincica che dal limite dell'aria lascia esplodere tutta la sua rabbia che è poi la gioia di tutto il Presti che quella palla l'ha messa dentro assieme al folletto Biancazzurro. Vince il Gela 1-0, vetta consolidata assieme al Dattilo Noir.